L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Beato Gregorio X di Arezzo inaugura il suo anno accademico 2013-2014 e lo fa con un appuntamento d'eccezione, un alezio magistralis del professore Enrico Menestò, presidente della Fondazione CISAM, il Centro Italiano per lo Studio sull'Alto Medioevo e ordinario di letteratura latina medievale all'Università di Perugia. Al centro del suo intervento, previsto per le 11.30 di sabato 14 dicembre nell'Episcopio di Arezzo, ci sarà la novità di Francesco D'Assisi nella Cristianitas Medievale. Le celebrazioni che danno il via a questo nuovo anno accademico prendono il via un'ora prima, con una messa celebrata dall'arcivescovo Riccardo Fontana nella chiesa di San Michele. Riprendono così a pieno regime le attività dell'Istituto di Piazza di Murello, diretto dalla professoressa Donatella Pagliacci. Oltre ai tradizionali corsi di teologia, storia, sociologia e antropologia, promuove corsi specifici sull'arte sacra, etica della comunicazione e formazione per genitori e famiglie. L'inaugurazione dell'anno accademico sarà anche occasione per presentare le iniziative in programma per il prossimo anno, in occasione del terzo centenario della beatificazione di Papa Gregorio X. Con il suo pontificato si spese molto per la riunificazione con la Chiesa d'Oriente, incontrò il Kubilai Khan, il fondatore del primo impero cinese della dinastia Yuan, e si spese anima e corpo per riportare la pace in terra santa. Grazie a tutti.